Nonostante quello che fosse successo, non riuscivo a smettere di pensare a quello che mi aveva detto Noah. E anche se sapevo che non dovevo farlo, quanto avrei voluto credergli? Regola numero 6 Se non puoi parlare al tuo migliore amico di una cosa che stai facendo, probabilmente è meglio che tu non la faccia. Grazie a tutti.